E' atterrato all'aeroporto di Rotterdam in Olanda l'aereo con a bordo l'ex generale serbo Ratko Mladic. L'ex comandante dei serbo-bosniaci nella guerra di Jugoslavia, ricevuto da funzionari dell'ufficio del procuratore, sarà trasferito all'AIA, dove ha sede il Tribunale Penale Internazionale, che lo giudicherà. Mladic è accusato di crimini di guerra contro l'umanità e di genocidio ed è considerato il responsabile della strage di oltre 7.000 musulmani a Srebrenica. La sua estradizione era stata firmata nel pomeriggio di martedì, dopo il rigetto del ricorso dei suoi avvocati.